ciao a tutti buongiorno siamo arrivati a malta qui all'aeroporto sono contento di essere qui e di ritrovare tanti amici gli amici della di malta di zeytun e soprattutto della bella con la bella con la quale abbiamo stretto un rapporto d'amicizia di gemellaggio l'anno scorso tant'è vero che stanno arrivando i ragazzi della bella stiamo aspettando per portare avanti questo nostro discorso questo nostro patto d'amicizia di fronte a questo abbiamo ritenuto opportuno quest'anno portare una delegazione della young band di celano che sono giovani musicisti che si esibiranno qua celano per questo rapporto di amicizia che si è stabilito tra la nostra città e la città di zeytun infatti è stato molto significativo che l'anno scorso siamo riusciti a come dire a fare questo patto di amicizia per rafforzare la solidarietà che c'è tra i due popoli dopo che nel 2007 abbiamo fatto un patto di gemellaggio tra celano e la città di zeytun all'epoca il sottoscritto era anche assessore alle scuole assieme ad ezio cicciotti abbiamo portato anche 150 studenti qua a zeytun per cui per la saranno ospitati dalla beland in occasione della festa che si celebrerà nei prossimi giorni grazie a tutti Grazie a tutti.